Ciao a tutti, oggi ho il piacere di presentarvi una nuova linea di bocchini di Marco Padovani che è un costruttore di bocchini brasiliano di origini italiane e stamattina è venuto a casa mia e mi ha portato una linea completa di suoi nuovi bocchini totalmente fatti in modo artigianale da lui e dalla sua famiglia. Prima, questa novità è il risonatore che lui ha costruito per questi bocchini, sono due risonatori diversi, abbiamo una linea di bocchini più pesanti e una linea di bocchini più leggeri e abbiamo un risonatore che è stato creato per i bocchini più pesanti e un risonatore che invece è stato creato per i bocchini più leggeri. In realtà io provandoli ho visto che anche cambiando il risonatore funziona molto bene, infatti per me ho scelto un bocchino leggero ma con il risonatore del bocchino pesante. Sono fatti molto bene, molto curati nei minimi particolari e anche dal punto di vista estetico molto accattivante. Bocchini Marco Padovani Brasello. Civore 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 Grazie a tutti.